Dopo le fasi più dure dell'emergenza, anche l'Ausl Romagna è alle prese con un difficile ritorno alla normalità. Oltre 200.000 le prestazioni arretrate da recuperare, Serena Biondini ha intervistato il nuovo direttore Tiziano Caradori. Non è possibile che sistemi così meritori come i nostri, per rispondere ad un'emergenza, devono bloccare tutto il resto. Il ritorno alla normalità dopo la tempesta Covid, la prima sfida per Tiziano Caradori, nuovo direttore della Usl Romagna. 73 comuni, oltre un milione di abitanti e 15.000 dipendenti, senza contare i medici di base. La quinta azienda sanitaria più grande d'Italia. Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, nei mesi del lockdown, qui sono stati rinviati migliaia di interventi chirurgici e circa 250.000 visite e prestazioni ambulatoriali. Sono state ricollocate, vuol dire, tra il 70 e l'80% di queste decine di migliaia, cioè hanno avuto una nuova prenotazione, sono stati richiamati con tutte le difficoltà del caso, eccetera. Per smaltire gli arretrati, la Usl Romagna sta reclutando nuovo personale, contattando poliambulatori e ospedali privati e chiedendo prestazioni extra ai propri dipendenti. Ho l'obiettivo di ritornare alla normalità entro l'autunno. Una nuova ondata di contagi ci troverebbe più pronti, dice Carradori. Il Covid ci ha insegnato a potenziare la medicina del territorio, vigilare sulle residenze per anziani, avere spazi e personale in più per poter rispondere alle emergenze e soprattutto abbandonare la politica del contenimento della spesa. Il contenimento della spesa, quando va bene, è un uso razionale. Quando va male è un razionamento. Per ragioni finanziarie è stato un razionamento. Sì, prossimo telegiornale a mezzanotte. Buona serata.